Ciao a tutti e benvenuti su Bit in Bit, io sono Ammon e oggi andiamo a vedere come possiamo inviare dei messaggi in grassetto su Whatsapp. Innanzitutto dobbiamo aprire Whatsapp e andare a scrivere un messaggio. Come vedete nel tastierino non c'è nessuna funzione che possa attivare e disattivare il grassetto nel font. In realtà per realizzare questo non dobbiamo fare altro che mettere all'inizio e alla fine della nostra parola o della nostra frase che vogliamo in grassetto un asterisco. Andiamo subito a vedere. Selezioniamo l'asterisco per iniziare la frase. Ciao. Chiudiamo con l'asterisco. Come vedete già è cambiato in grassetto. Poi se vogliamo andare a capo e scriviamo normale vedete che scrive normale. Mettiamo uno spazio, ancora asterisco. Scriviamo qualcosa. Chiudiamo con l'asterisco anche qua il grassetto. Una volta rinviato vedete che gli asterischi spariscono per cui di fatto magari avete ricevuto un messaggio così e non vi siete accorti che c'erano gli asterischi. Vedete solo il grassetto e dite cavolo ma come si fa? Adesso lo sapete. Se avete delle domande a riguardo non dovete fare altro che scriverci nei commenti. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Ciao. Ciao.